Salve, io sono Nicola Pistoia, con Paolo Triestino saremo qua alla San Umberto con Faustelli Sciacalli, probabilmente sarà il titolo provvisorio, adesso vediamo. Poi ci sarà Elisabetta De Vito, Sandra Caruso, Ciro Scalera e Arielle, che purtroppo non mi ricordo il cognome. E che dire, la commedia ci sta lavorando Gianni Clementi, a fine luglio ce la consegnerà, però già siamo a conoscenza un po' della trama, perché sono quattro amici che si ritrovano dopo tanti anni, avevano un gruppo che si intitolava proprio Faustelli Sciacalli, e poi per varie vicissitudini si separano, si allontanano, così come è la vita, loro avevano tipo 25 anni, e si ritrovano dopo tanti tanti anni, e si ritrovano a casa appunto di Fausto, e c'è uno dei quattro che dice, ma perché non riproponiamo questo successo che ci ha fatto conoscere, diventare famosi anche se per poco, perché ognuno vive una vita un po' tra virgolette e disgraziata con tutta una serie di problemi e preoccupazioni. Fino a che arriva questo signore, questo Mr. X, che non faccio il nome, che dovrei essere io, che scombussola un po' i piani e i progetti di questa famiglia, di questi amici. Confidiamo nello spettacolo di Gianni, perché lui ha una sapiente penna per scrivere, con lui già abbiamo fatto Grisù Giuseppe Maria e Ben Hur, che abbiamo sempre portato qui alla sala Umberto, e sempre qui, no, 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 abbiamo fatto anche trote di Edoardo Erba, quindi venire qui alla sala Umberto è come ritornare in famiglia, perché ci sono, da Alessandro Longobardi a tutti i suoi fedeli collaboratori, è una gioia stare qui e lavorare per far diventare sempre più grande la sala Umberto, anche se non ce n'è bisogno. Grazie, ciao ciao.